uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xiodarone daie can you hear that dream in the ocean? e allora ragazzi in questo video li andiamo a vedere tutte assieme in modo da poter completare la sfida e portarsi a casa i primi premi la prima ragazzi si trova a lande molto probabilmente si troverà nella stessa location dell'anno scorso ve la voglio far vedere ed eccola qua ragazzi vicino alla casa c'è la torta numero 1 torta numero 1 fatta la seconda torta invece ragazzi dovremo andare a borgo bislacco come vedete proprio leggermente più avanti del bus da recupero troveremo la torta numero 2 ci balliamo davanti ed è fatta torta numero 2 fatta numero 3 invece ragazzi basterà arrivare ai vichinghi e come vedete davanti alla casa principale ce n'è una torta numero 3 per la quarta torta invece ragazzi dovete andare a parco pacifico come vedete proprio vicino al gazebo principale la troverete mi raccomando ballateci davanti torta numero 4 la torta numero 5 ragazzi invece bisogna raggiungere condotti confusi ed anche qua vicino al furgone di respawn come vedete troverete la torta numero 5 ci ballate davanti torta numero 5 fatta torta numero 6 ragazzi invece dovete raggiungere rifugio ritirato come vedete là c'è la casa ma qua in basso vicino alla tenda la troverete torta numero 6 ballateci ballateci torta numero 7 ragazzi dobbiamo andare a crocevia del ciarpame come vedete proprio vicino al camion principale la troverete numero 7 fatta la torta numero 8 ragazzi dovremo invece raggiungere la pista quella che c'è nel bioma del deserto dovremo salire sulla montagnetta e ballarci davanti torta numero 8 fatta la torta numero 9 invece ragazzi non ci si deve spostare molto basta raggiungere i pannelli solari di palmetto paradisiaco quelli vicino alla casa di john wick ballarci davanti e torta numero 9 fatta e finalmente ragazzi per la torta numero 10 dovremo raggiungere sponde del saccheggio nell'isoletta quella centrale dove c'è il falò la troverete ci ballate davanti e la facciamo torta numero 10 fatta io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live ciao